live eccoci quindi il tuo visual hammer come si userebbe dire qua in UK è essere un po' crepuscolare con la webcam un po' grigiosa sì gliel'ho chiesto di farmela dark e quindi è in onore di ciò che ero da adolescente sai che una volta che si è dark si rimane dark per sempre eccomi qua ma quindi tu ascoltavi i cure e andavi ai concerti dei cure in Gioveso oppure no allora i cure sono troppo commerciali quindi io ero io ero oltre i cure ben oltre i cure quindi diciamo che i più commerciali della roba che ascoltavo io erano i sisters of mercy ecco che non so se sei presente no no mi cogli impreparato devo mandare una compilation senti ma cosa ti volevo dire no mi colpisce il fatto che che hai detto che comunque io sono in parte divisivo no perché parlavamo dei vari psicopatici che esistono online nei commenti con cui ogni giorno uno se vive online deve fare i conti e io pensavo caspita quando ho iniziato non avrei mai immaginato che parlando di business e di marketing la gente potesse odiarti amarti odiarti ecco immaginavo che il sentimento fosse invece così vabbè professionale tranquillo e invece no mi sono reso conto che questa cosa non è possibile su qualunque argomento come la vivi infatti l'hai detto bene esattamente qualunque argomento cioè puoi parlare di apicoltura puoi parlare di non lo so di cactus puoi parlare di lingua puoi parlare di business non importa credo che una questione fondamentale sia se hai delle idee per forza c'è qualcuno che è a favore e qualcuno che è contro perché magari gli fai simpatia gli fai antipatia e così via consideriamo che l'online si è complicato tantissimo da quando è diventato di tutti per cui ora riproduciamo online le dinamiche sociali che ci sono nel mondo reale e anche questa della fandom oppure dell'arcinemico diciamo così assolutamente senti Vera dove sei? in che parte del mondo sei? io sono a Firenze ah sei a Firenze ma sei io sono qua a Brighton con la variante inglese che ho aperto i giornali italiani e ho detto mamma mia moriremo tutti moriremo di mani ho aperto la porta di casa pensando adesso che cazzo troverò l'apocalisse no c'è il mio vicino allora basta mi hai detto ma Brighton peraltro non si ha neanche nella lista quella del tier 4 però è incredibile come il racconto ecco il linguaggio utilizzato sui media non corrisponda minimamente alla realtà che poi uno vive poi ovviamente ci sono situazioni più o meno comprense però è incredibile come se tu leggi quella rappresentazione e dici cacchio non esco più di casa qua perché invece mia moglie che non legge i giornali italiani non ha quella percezione esatto no no infatti è vero fra l'altro io subito all'inizio di tutto il casino a marzo scrissi un pezzo per Treccani dove mi occupavo proprio della comunicazione nella primissima fase diciamo del passaggio da epidemia a pandemia no e soprattutto a come veniva narrata la storia di Wuhan no sembrava veramente il film apocalittico come dire fine del mondo e così via poi appunto quando arriva il paziente 1 quello famoso Lombardo eccetera poi lì appunto Italia rossa Italia chiusa moriremo tutti e così via già allora ebbi da ridire su questa insistenza nell'usare metafore belliche immagini così molto granghignolesche no quindi sopra le righe perché fanno malissimo fanno malissimo all'opinione pubblica no cioè non sono minimamente una minimizzatrice di quello che sta succedendo però vedo anche sulle persone attorno a me quelle più esposte ai media tradizionali che c'è proprio un surplus di di paura anzi di terrore che è moltissimo dovuto alla narrazione dei fatti c'era un titolo vera di non so se Corriere o Repubblica ora l'Inghilterra trema e tu dici ma trema ma perché devi dare queste immagini è come se io che faccio il prenditore dicessi ragazzi adesso tremiamo ma cioè posso rappresentare una situazione difficile quest'anno figurati difficilissimo complesso per quello che è in modo super realistico ma non ho bisogno di metterti dentro questo tutta una serie di termini che poi non li togli più dalla testa quando vedi un'immagine poi non riesci più a toglierla ce l'hai dentro e quindi è un casino insomma l'impatto è veramente funesto tra l'altro giusto ieri siccome sto scrivendo un libro stavo cercando degli esempi di questa narrazione distorta ho trovato una notizia che era tipo caccia al paziente 1 nel Kent una cosa del genere caccia allora quando tu leggi caccia al paziente 1 cosa pensi? pensi che si sia pacificamente tentando di rintracciare il primo malato della nuova variante di virus o che c'è tipo i servizi speciali le truppe d'assalto che sono lì appostate a cercare questo poveraccio per toglierlo dal novero dei vivi cioè sono importanti le parole sono importanti non vorrei fare ironi metri in anni moretti ma cambiano la percezione della realtà si cerca di rintracciare il paziente 1 sarebbe la notizia senza questo quest'extra di narrazione e però non è abbastanza palatabile non è abbastanza appetibile e quindi ci metto caccia che uno pensa a James Bond come quando ti ricordi all'inizio c'era povero Cristo caccia all'untore il super untore era un tizio cioè non è che apposta questo qua era andato a girare cioè non sapere no ma ha detto che ha fatto in una settimana quello che io faccio in un mese due maratone tre cene fuori ma ammazza che vita che c'hai però effettivamente ecco untore si parla molto della parola untore che ovviamente è una figura inesistente è una figura mitologica l'untore perché ai tempi della peste in teoria era uno che andava in giro a ungere con questo virus no le porte delle persone a cui voleva male chiaramente non è mai esistita una persona del genere ma esattamente come le streghe c'è gente che ci ha rimesso la pelle cioè uno che veniva come si dice bollato come un tore c'era il rischio che venisse linciato insomma quindi sì in chat mi stanno mettendo un po' di commenti interessanti anzi se avete altri titoli che avete letto ultimamente scriveteli così li commettiamo con vera ad esempio Corrado dice parla delle ispirazioni degli italiani dopo il blocco dei voli titoli Repubblica noi prigionieri negli aeroporti di Londra cioè è sempre queste metafore che sono per colpirti e crearti questa sensazione di tensione così torni a ridare un'occhiata 30 secondi dopo per vedere se la situazione si è calmata e domani riparte la prossima metafora drammatica sì fra l'altro indubbiamente ci sono persone che si sono trovate in incastri scomodissimi no tipo non so hai disdetto tutto per ritornare a casa dopo un periodo di soggiorno e rimani bloccato lì capisco però tutto questo insistere su queste metafore qui appunto la trincea la prima linea i prigionieri gli eroi la battaglia eccetera no tutta la metafora bellica in realtà hanno due come si può dire conseguenze perverse chiamiamole così allora il primo è se siamo in guerra bomba libera tutti cioè è tutto lecito perché dobbiamo salvarci la pelle quindi tendenzialmente si vanno a corrodere proprio quelle relazioni sociali che invece in questo momento sarebbero importanti no perché credo che una delle cose che stiamo imparando dalla pandemia è fondamentale fare attenzione al prossimo no cioè la maschera te la metti non tanto per te quanto per gli altri il distanziamento eccetera uno e due questo lo diceva già Susan Sontag se tu crei la sensazione di stare in guerra la nostra psiche automaticamente cerca nemici e quindi quello che è successo sin dall'inizio della pandemia è questa proliferazione di nemici no l'untore i cinesi no all'inizio della pandemia ti ricordo che a Roma avevano sputato addosso i cinesi che magari sono romani da 500 generazioni no perché poi abbiamo cinesi ormai di tot generazioni nati già in Italia i runner i vecchi i bambini no ti ricordi i runner solo sulla spiaggia bloccato dai droni no questo è il nemico a un certo punto mi ricordo che si discuteva cioè si disprezzava pubblicamente sia chi riempiva troppo il carrello al supermercato perché rallentavano gli altri sia chi aveva il carrello troppo vuoto perché vuol dire che andava troppo spesso e mi ricordo un post di una persona che inveiva contro qualcuno incontrato al supermarket che aveva osato comprare panna e fragole in pandemia non si fa no cioè dobbiamo anche mangiare in maniera così sotto tono perché siamo in pandemia è vero è vero peraltro io avevo vissuto all'inizio quando l'Italia era il focolaio e io ero qua a Brighton l'avevo detto anche in un video insomma mi aveva colpito il fatto che per la prima volta in otto anni che vivo qua otto nove anni che vivo qua mi guardavano un po' come dire l'italiano cioè ma questo qua è stato in Italia mi guardavano con sospetto almeno io mi sono sentito guardato con sospetto magari era una mia paranoia io sono magari paranoico su queste cose però ad oggi invece che se girate c'è la variante inglese allora invece noi guardiamo gli inglesi come dire bastardi ci avete la variante che poi sarà mica una sola variante cioè ci saranno tante varianti non di sto merito però la variante inglese adesso arriva e quella monopolizza ecco la cosa che a me fa morire da diciamo giovane marmotta della comunicazione mia passione al mondo della comunicazione è che tu per alcuni periodi della tua vita vivi con quel tormentone lì quella parola il coso oppure non so berlusconi per quanti anni berlusconi le robe e poi si passa ad altro e tu quella roba lì non esiste più e vai sui prossimi termini che determinano poi il tuo stato d'animo sono le famose buzzwords sono le parole del momento che diventano centrali alla narrazione appunto dei mezzi di comunicazione di massa con effetti allucinanti cioè se tu guardi poi le notizie su sta famosa variante inglese ti dicono è più contagiosa ma in realtà non è non è una grande novità cioè ci sono già state tante mutazioni del virus come mai adesso questa è la notizia perché è come se noi avessimo bisogno di questa notizia no? e quindi il sistema si butta su questa roba per creare il caso e hai ragione su una roba che è psicologicamente interessante fra un tot di tempo ce lo saremmo dimenticato come è sempre successo allora immaginati cosa succede se nel circuito dei media entra una fake news cioè una bufala una notizia distorta o data male siccome c'è questo picco di interesse questo spike di interesse all'inizio ma poi non gliene frega più nulla a nessuno è difficilissimo fare debunking cioè eradicare quella prima versione che ha avuto una grande presa sull'opinione pubblica io questo discorso lo vedo tanto per le bufale linguistiche no? cioè mi viene in mente la più grande di tutte è Petaloso Petaloso è del febbraio 2016 e io lavoravo all'epoca come gestrice del profilo Twitter della Crusca quindi ero diciamo così nella stanza dei bottoni quindi posso dare un resoconto di prima mano di quello che è successo ecco Petaloso non è stato approvato dalla Crusca e soprattutto la Crusca non l'ha messo in nessun vocabolario ma perché la Crusca non fa vocabolari dal 1923 non c'è verso sono passati quattro anni io parlo parlo vado alle conferenze eccetera e sempre c'è qualcuno che alza la mano e fa eh però con quello sdoganamento di Petaloso la Crusca si è sputtanata sono una roba del genere guarda la Crusca non sdogana perché non è un ufficio delle dogane però quella prima informazione è impossibile da da togliere dal giro dal circuito senti dimmi come funziona il mondo del lingua o linguaggio perché qua adesso inizio a sentirmi in grande imbarazzo a pronunciare qualunque parola ma come funziona diciamo che è il il custode della lingua italiana se esiste un custode della lingua italiana come funziona diciamo visto dal dal tuo punto di vista allora intanto tu hai il problema lingua e linguaggio perché in inglese siete fortunati avete solo language e quindi avete risolto tutto diciamo che il linguaggio comprende anche cose extralinguistiche quindi anche il linguaggio del corpo o il linguaggio degli animali e cose del genere lingua parliamo soprattutto delle parole devo darti una brutta notizia non c'è un custode della lingua italiana la lingua italiana da questo punto di vista è anarchica la cosa più vicina al custode effettivamente è l'Accademia della Crusca perché è la più antica accademia delle lingue forse del mondo fondata nel 1583 quindi insomma c'è una certa storia non c'ero però me l'hanno detto e però non ha un ruolo ufficiale cioè la Crusca studia l'italiano ma da nessuna parte in nessuno statuto in nessun documento del governo italiano c'è scritto che la Crusca ha un ruolo prescrittivo non prescrive nulla scusa vera scusa se ti interrompo ma quando dici la Crusca studia cioè dove stanno chi sono quanti sono che preparazione hanno allora gli accademici della Crusca che vengono eletti per cooptazione cioè chi è già dentro sceglie gli altri membri sono tra i 10 e i 20 poi dipende non c'è un numero fississimo però diciamo quella quantità lì quelli sono i membri stabili poi ci sono accademici corrispondenti ci sono accademici corrispondenti esteri quindi insomma la rete è più grande poi ci sono tantissimi collaboratori come ero anch'io ma non ero non sono mai stata un'accademica che preparazione hanno di solito sono studiosi della lingua italiana di chiara fama e quel chiara fama vuol dire che normalmente sono professori ordinari quindi incardinati su università italiane ma anche estere storici della lingua linguisti generali dialettologi diciamo che il grosso sono storici della lingua ma non solo per esempio io sono sociolinguista non storica della lingua e c'erano altre altri e altre sociolinguiste a collaborare con la crusca quando c'ero anch'io insomma quando dici sociolinguista significa che c'è un'università di sociolinguismo o no è una materia è una materia dell'area linguistica si diventa sociolinguista diciamo studiando a lettere no soprattutto lettere moderne e poi di solito chi poi continua a occuparsi dell'ambito linguistico fa un dottorato dell'area linguistica allora io come PhD ho un dottorato in linguistica e linguistica italiana poi all'interno di tutta quest'area mi sono io specializzata sulla sociolinguistica che è una linguistica un po' di confine neanche riconosciuta da tutti come materia a pieno titolo perché c'è un po' di sociologia un po' di linguistica filosofia del linguaggio psicologia antropologia etnografia e così via e quando uno dice la Treccani che dici la Crusca la Treccani secondo me nell'immaginario collettivo sono molto fratello e sorella sì ma in realtà non sono non c'è una gara no allora la Crusca l'Accademia della Crusca studia soprattutto l'italiano in tutte le sue forme eccetera ma appunto come dicevo prima dal 1923 non fa vocabolari ha fatto il primo dell'italiano il vocabolario degli accademici della Crusca che è del 1612 poi ha fatto altre cinque edizioni e l'ultima la quinta è tronca alla O di ozono ed è stata interrotta appunto nel 1923 da allora la Crusca non fa più vocabolari e non fa neanche enciclopedie mentre la Treccani è famosa per l'enciclopedia no è un'altra come dire un ente indipendente ha l'enciclopedia e poi anche il vocabolario il vocabolario Treccani è uno dei più usati oggi dalle persone ma perché in larga parte è accessibile in rete ci sono altri vocabolari italiani in rete diciamo contemporanei no quindi non storici come quelli della Crusca ma forse Treccani è quello più di riferimento perché è più completo fra quelli liberamente accessibili online ok io quando provo a trovare delle parole italiane che faccio sempre più fatica vera se devo essere sincero è strana no questa cosa poi della lingua quando vivi in un altro paese inizi a a sovrapporre però a precedere a questo e provo a cercare online magari cerco sinonimi contrari alla fine dei conti ho notato che escono sempre magari non so c'è il sito del Corriere Virgilio e spesso con delle liste che dici boh non lo so simili imprese non si sa da dove e poi esce l'articolo e dice no ma invece il giusto modo di mettere l'accento e insomma e si si innesca poi un meccanismo di ecco grandi conflitti sul tema della lingua cioè io forse la maggior quantità di insulti che ho ricevuto una volta per un video è stato per se stesso con l'accento senza l'accento ma perché ma come ti sei permesso nel fascione cioè veramente un attacco frontale sulla lingua ma non è strano perché cioè può sembrare strano perché se tu lo guardi da fuori dici ma com'è che la gente si incazza così tanto per questioni di lingua cioè non è invece la spiegazione c'è e io che sono sociolinguista lo capisco bene perché prima di tutto la lingua è un atto identitario molto potente no per cui io sono le parole che uso mi identifico per ciò che sono per ciò che vorrei anche essere e poi identifico la tribù di appartenenza quindi è sia un atto identitario personale sia un atto identitario diciamo collettivo una cosa che succede è quella di fossilizzarsi sulle competenze linguistiche che si hanno per esempio in uscita dalla scuola ci si ferma lì e poi come dice Douglas Adams dopo i 35 anni diventiamo tutti un po' reazionari ora lui lo dice rispetto alla tecnologia ma rispetto alla lingua è uguale quindi diventiamo un po' remitenti al cambiamento ma se qualcuno ci dice guarda che quello che ti ha insegnato la maestra Isolina a 30, 40, 50 anni fa è un po' passé si arrabbiano come se gli avessi insultato la madre perché quelle robe che loro hanno imparato a scuola sono parte di ciò che sono loro della loro essenza allora generazione generazione di studenti sono stati bacchettati sulle dita perché se perde l'accento quando è seguito da stesso poi arriva Luca Serianni che è uno dei massimi linguisti viventi in Italia oggi io dico sempre cintura nera decimo dan di grammatica italiana e dice guardate che io ho studiato tutte le grammatiche scientifiche da quella del Bembo del 500 in poi e da nessuna parte c'è scritta sta regola se la sono inventata le grammatiche scolastiche quindi scrivete se stesso con l'accento e non rompete le balle più o meno questa è la conclusione io nei miei libri lo scrivo con l'accento però ancora ci metto un disclaimer cioè la prima volta scrivo guarda che non sono cretina ma seguo ciò che dice Luca Serianni però per dire c'è una questione identitaria fortissima sulla lingua e quindi ogni cambiamento è vissuto come un attentato alla propria identità è interessante per me perché se se io ragiono sulla parte di comunicazione l'uso della lingua per la parte di comunicazione il paradosso è che oggi chi comunica bene sui social ha storpiato interamente la lingua e se tu usi la lingua italiana correttamente sei fuori da questo periodo storico dove magari se io devo mettere un fascione fai un fascione a un video ok un titolo a un video e funziona e questo non so penso BuzzFeed è un esempio clamoroso no funziona molto meglio se tu scrivi OMG LOL e uno dice ma lo sto scrivendo questo oppure se magari parti senza il maiuscolo parti in minuscolo i puntini sette puntini dici no ma questa roba fa schifo però come dire c'è questa strana contaminazione dove quel tipo di parola o di lingua usata in quel modo subito risuona con quel certo tipo di pubblico no e quindi continuo rincorrere la modalità migliore ecco per essere da un lato non comunicare come un troglodite dall'altro lato per comunicare in un modo però che sia che dia poi una reazione ecco l'ho spiegata male è vera però tu ma si capisce benissimo hai detto una serie di robe molto interessanti la prima io penso che quello che succede online sui social eccetera in primis è un adattamento della lingua al mezzo e quindi ci sta cioè ci sta l'OMG ci sta il LOL ci sta tutto la lingua lo fa cioè quando siamo andati in radio abbiamo iniziato ad adattarci alla radio quando c'è stata la tv è cambiato di nuovo l'italiano con i social media c'è stata un'ennesima rivoluzione ma non per forza in peggio apro qui una piccola parentesi prima di continuare la sensazione che i social abbiano peggiorato l'italiano è dovuta al fatto che sui social noi vediamo dei livelli d'uso della lingua che normalmente sono nascosti cioè l'italiano popolare io faccio una collezione strana ma non è così strana ormai io colleziono liste della spesa ecco sulle liste della spesa la gente si rilassa non sta lì a scrivere per bene quindi sono pieni di errori allora una volta quel tipo di lingua lo trovavamo sulle liste della spesa adesso lo vediamo continuando in online sui social e questo ci dà la sensazione che l'italiano sia peggiorato non è peggiorato è che vediamo il discorso pubblico di molta più gente di prima cioè prima chi è che parlava in pubblico? quattro gatti selezionati ora la selezione all'ingresso non c'è più e quindi sembra di essere nel bar di Guerre Stellari e questa è una roba sei la prima persona vera nella mia vita che incontro che colleziona liste della spesa c'è anche un profilo Instagram la lista della spesa che non sono io che lo fa quindi ci sono delle anime ma guarda che è fichissimo ci provi delle cose meravigliose che poi sai tutti i nomi stranieri ti puoi immaginare come è scritto carefree è meraviglioso vabbè l'altra cosa siamo la nostra generazione io sono un po' più vecchia di te mi sa comunque diciamo la generazione X a un certo punto non ti chiedo quanti anni hai tu vedi l'eleganza insomma siamo 45 è un dato pubblico io faccio ho 48 e faccio 49 a luglio ecco allora siamo proprio coetagni noi siamo figli degli anni 70 allora la nostra generazione che è la prima che è andata online cioè diciamo che gli entusiasti i nerd sono della nostra generazione della generazione X a un certo punto si sono resi conto che questa roba poteva diventare un modo per vivere no cioè garantirti un reddito e quindi giustamente abbiamo cercato anche delle regole di comunicazione online no per cui se tu fai un corso oggi per fare social media manager ti dicono allora mettili con Cina non iniziare con l'hashtag però mettici l'hashtag mettici queste parole no le buzzwords eccetera va tutto bene però la comunicazione umana è troppo complessa per essere tutta tecnicizzata no e quindi se è pur vero che la buzzword o l'OMG ti aiuta per esempio a essere come si dice considerato meglio dall'algoritmo indicizzato meglio non mi veniva scusami secondo me è anche giusto che si ritorni a pensare che alla fine dei salmi nella comunicazione ci vuole la sostanza cioè tu puoi fare il tweet tecnicamente perfetto e non te lo considera nessuno per non dire di peggio perché sei scolastico e questa credo che sia la differenza fra una comunicazione performativa cioè è tutta una performance e quella che io chiamo comunicazione generativa e qui chiudo dicendo cosa faccio io cioè io ho una vita che sento dire online per essere letti bisogna scrivere cose brevi ecco io sono famosa su facebook soprattutto perché io scrivo delle pappardelle lunghissime cioè roba da 10.000 caratteri e nonostante ho un pubblico che mi legge anche fino in fondo per cui come disse una volta credo il New Yorker quando parlava del long form se una roba è scritta bene ed è interessante tranquillo che la gente te la legge anche se è lunga assolutamente infatti ogni volta che mi capita di parlare della lunghezza peraltro cioè hai posti tipo youtube che premiano contenuti lunghi Joe Rogan fa interviste di 4 ore e mezza quindi nel momento in cui hai come dire del contenuto valido a quel punto uno lo segue oppure non lo so cioè io ho visto Mandalorian quante cazzo di ore sono Mandalorian però lo guardi dipende insomma se il contenuto è valido lo guardi senti c'è una grandissima domanda che ti giro e che assilla anche me e quindi sei l'unica che può finalmente rispondere a questo possiamo fare chiarezza chiede vale freak freak sull'uso corretto di piuttosto che ogni due minuti a me c'è sempre un commento su eh sì però piuttosto che non si può sentire non lo so no ma un commento se arriva un ospite edificamente c'è sempre milanese anch'io io sono milanese piuttosto che probabilmente lo uso anch'io però non è un qualche cosa che noto particolarmente o dico hai sbagliato così o è giusto così aiutami allora secondo il grande libro dell'italiano piuttosto che implica una scelta cioè vuol dire invece di quindi eh preferisco la pizza piuttosto che il risotto no hai espresso una preferenza eh a Milano ma non è una cosa recentissima diciamo che sta roba gira da almeno vent'anni ma secondo me anche di più a Milano il piuttosto che a un certo punto si è iniziato a usare non come invece di ma come o quindi stasera mangiamo pizza piuttosto che risotto piuttosto che sushi nel senso di o no non che è meglio uno dell'altro e allora c'è questo cultural clash eh questo scontro culturale fra i milanesi che lo usano come o e il resto d'Italia che tendenzialmente lo usa come invece che poi c'è stata un'ulteriore degenerazione io ho premesso che ho molti amici milanesi eh allora molti dei miei amici milanesi hanno iniziato a usare piuttosto che come e quindi il virus si può prendere in ascensore piuttosto che nelle sale d'aspetto piuttosto che dal medico nel senso di e e e no? ok e quindi il casino è aumentato allora i non milanesi e oserei dire i non fighetti usano piuttosto che come invece di e si lamentano dei milanesi che lo usano come o o addirittura e c'è una cosa da aggiungere il milanese in Italia è considerato una varietà di prestigio come il romanesco perché a Milano e a Milano c'è economia finanza moda no? per cui è vero e quindi eh questo piuttosto che si sta imponendo nell'uso perché viene da una varietà che è sentita come prestigiosa e quindi tu incontri anche a sto punto non so persone del del meridione che però ci infilano il piuttosto che è milanese perché è sentito come fighetto ok vedi io non mi reputo un fighetto però sono originariamente milanese e piuttosto che eh sì probabilmente lo userei anch'io bevo bevo il tè piuttosto che il caffè no piuttosto invece del caffè bevo il tè invece del caffè non lo so ci devo pensare però vuoi vuoi caffè piuttosto che tè nel senso di oh e tu allora mi rispondi l'uno o l'altro no ecco questo è questo è deragliante per una parte degli italiani però posso dirvi una cosa Vale e tutti gli altri state ascoltando ce dobbiamo star perché ormai è troppo diffuso cioè io continuo a non usarlo però è un po' come old man e azed clouds cioè non serve a molto lamentarsi piuttosto che perché lo usano tutti è endemico non ci si può fare nulla è come fare il gruppo facebook lottiamo contro il neologismo apericena c'ha 18 anni sto poro cristo apericena maggiorenne abbiamo la macchina che ci stiamo a lamentare di apericena vabbè senti una cosa che invece ho notato a Narita dice no io non ci sto a portare infatti cara a Narita il gramamante quello che quella che io cerco di rappresentare il gramamante è uno che tenta di usare nel modo migliore possibile l'italiano scusami scusami Antonio ci dice il medico mi ha detto devi bere l'acqua piuttosto che il vino se era milanese bevi pure il vino se invece non era milanese vuol dire che devi essere a stemio facile no? ma io però io direi devi bere l'acqua piuttosto che il vino cioè invece del vino bevi l'acqua invece devi bere l'acqua piuttosto che il vino per una certa parte degli italiani vuol dire bevi acqua o vino ah ok ho capito ok ok chiaro chiarissimo piuttosto che rather than una roba del genere sì chiaro t'ho interrotto stavi dicendo qualcosa ma ti ho no ho detto i grammamanti fanno caso a come parlano e cercano di parlare italiano al peggio i grammar nazi invece infestano il prossimo cioè sono quelli che vanno a fare le crociate e a rompere i maroni al prossimo allora sì come Bill fa il grammamante non il grammar nazi giusto giusto sono come quelli che per costruire il grattacielo più alto possono decidere se tirar giù quello degli altri o costruire il proprio ecco i grammar nazi tirano giù quello degli altri un'altra cosa una cosa che ho notato Vera è che negli ultimi diciamo cinque anni che faccio dei video sui social è impossibile ci sono due grandi problemi se io voglio fare scrivere un titolo senza clickbaitare che catturi l'attenzione non posso credere di aver appena detto clickbaitare a vera geno ma questo lo metterò nel curriculum quando cercherò un lavoro come sociolinguista brightoniano tra cinque anni no la cosa che ho notato è non puoi ovviamente scrivere in inglese perché la comprensione media dell'inglese italiana è oltre l'imbarazzante è proprio una roba o i fatti o i dati e l'altra cosa non puoi mai usare delle metafore cioè se io magari ho una metafora carina in testa e nel titolo uso una metafora zero non viene capita viene fraintesa uno dice ma cos'è cosa sto dicendo viene presa letteralmente è una roba imbarazzante l'uso della metafora è è vietato ecco che nella mia testa invece non era così all'inizio pensavo la metafora è figa no perché anzi quindi non lo so e allora l'inglese l'hai detto gli italiani hanno un problema grosso con le lingue straniere e l'inglese ovviamente la fa da padrone ed è proprio il motivo per cui per una parte degli italiani l'inglese è una roba mistica e quindi si riempiono la bocca di anglismi non necessari la reason why di questo project implica il how to di questo branding è cioè la reason why la motivazione no ecco poi io non sono contraria in assoluto agli angli per esempio hater lo dico hate speech lo dico influencer lo dico non dico influencer perché mi dà un fastidio tremendo ma insomma vabbè l'inglese usato appena di canide è proprio l'espressione di quanto poco conosciamo l'inglese e poi c'è l'uso perverso dell'inglese lo fa a volte anche il governo scriveva una roba in inglese così nessuno capisce di cosa si sta parlando ad esempio bail in bail out delle banche sconosciuto alla maggior parte delle persone quindi da una parte ha questa come si può dire questa aura mistica di fighetteria che ovviamente nel momento in cui poi tu impari davvero l'inglese la perde perché a quel punto capisci che è una lingua che ti serve per fare alcune cose ma per altre va benissimo l'italiano e questo è uno quindi da una parte c'hai quelli che dicono la reason why del project e dall'altra quelli parla italiano non usiamo i forestierismi ovviamente sono due polarizzazioni sciocche perché la nostra lingua dico sempre che l'italiano è una donna dai facili costumi perché stando lì nel mezzo del Mediterraneo ha prestiti da 30 lingue diverse capito per cui cioè se ce l'hai sì scusa su questo secondo te io diciamo potrei chiedere il danno biologico da 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 inglesismi e sigle nel mondo del business digitale perché si parla solo in inglesismi strani di sigle cro allora forwarda la mail no ma steppami dentro ma me l'hai deliverato ma se si fuori alle steppami dentro vabbè ecco chi vive nel mondo business tech parla un it anglish non parla un italiano non parla un inglese però avendo fatto vent'anni di eventi business e tech vedendo in azione tutti i CEO gli amministratori delegati direttori market mi è venuta come dire una certa compassione perché se tu vivi immerso sei magari una filiale di un'azienda straniera che con te comunica in inglese tu devi parlare velocemente dopo un po' io lo vedo vivendo qua in Inghilterra dopo un po' non ti viene la parola l'italiano è troppo lungo e quindi viene molto più facile dire oh forwarda no e quindi un po' ho compassione per l'utilizzo però comprendo che se uno vive fuori da quel mondo lì e non vive nel mondo diciamo del business che va avanti con quelle logiche lì è chiaro che invece gli dà fastidio e ti sembra che vogliano fare i fighi ecco alcuni vogliono anche fare i fighi però insomma c'è c'è l'elemento di fare i fighi c'è nel marketing c'è sicuramente nell'ambito tecnologico lo vedo più naturale perché è anche normale che quando noi prendiamo un'arte una tecnologia un ramo del sapere da una certa lingua ci portiamo dietro anche il lessico da quella lingua cioè il balletto parla francese un po' in tutto il mondo la pizza è pizza in tutto il mondo le indicazioni sui dispartiti musicali sono in italiano in tutto il mondo quelle fortissimo andante lento quella roba là per cui il fatto che l'informatica prima l'internet quindi le tecnologie di rete poi e i social media in tutti i sensi ancora poi parlino inglese a me non dà alcun fastidio casomai il punto è allora è un gergo tecnico di quel settore e quindi anch'io se devo io ho fatto la tecnica informatica in un negozio quando ero giovane è chiaro che anche noi parlavamo per sigle per bus trappami questo e robe del genere il punto è che ognuno di noi si deve rendere conto che una cosa è se parli se fai una comunicazione endoriferita cioè all'interno del tuo ambiente oppure se la fai esoriferita cioè verso gli altri è come il medico io faccio sempre questo esempio che chiaro che parlerà di enuresi notturna o minzione notturna ma se deve dirlo alla vecchierella e dirà signora quante volte fa pipì durante la notte uno deve imparare a palleggiare diciamo così fra registri diversi infatti la maggior parte del mio tempo se intervisto un amministratore delegato di un'azienda tech in genere è a continuare a trattare quello che lui dice lui dice quella roba lì e io dico ah sì vuol dire è questo e non lo fa a posto semplicemente è come se parlasse in dialetto aretino e basta non riesce a parlare un italiano più comprensibile ecco tutto qua che è il problema più grande che hanno gli italiani cioè è noto lo diceva sempre Tullio De Mauro ma non solo Tullio De Mauro è stato mio maestro che uno dei problemi principali degli italiani non è quello di essere in assoluto ciuchi ma è quello di avere la varietà scolastica che è un italiano molto alto cioè è l'italiano dell'egli io faccio sempre l'esempio di egli perché egli normalmente non lo usa nessuno lo usiamo per coniugare i verbi io tu egli e poi dall'altro lato c'è bello bro cioè è l'italiano della strada nel mezzo c'è un po' di difficoltà a muoversi fra ambiti d'uso della lingua e allora nel momento in cui tu studiando conquisti un settore poi ti ci affezioni perché diventa anche quello una dichiarazione di identità cioè io sono un avvocato e quindi uso la lingua degli avvocati io sono un esperto di marketing e uso la lingua del marketing e però poi rimani incastrato in quella gabbia lì e non riesci a uscirne in Italia la divulgazione è considerata il ruotino di scorta di qualsiasi ambito per cui io che faccio divulgazione linguistica da moltissime persone sono disprezzata oh quella fa divulgazione no? come se fosse facile poi fare divulgazione cioè spiegare in maniera semplice concetti difficili bisogna impegnare e tipicamente chi disprezza i divulgatori sono gli addetti ai lavori che hanno sempre una certa invidia della visibilità degli altri a me non è la mia esperienza sempre stato così chiaro e questo era sull'inglese poi c'è un altro argomento le metafore e l'ironia allora sono difficili cioè le metafore e l'ironia richiedono un surplus di intelligenza no? Penny Kahneman sistema 1 sistema 2 quando tu dici appunto ho preso il pane sei in una specie di istintività linguistica nel momento nel momento in cui tu dici it's raining cats and dogs no? piovono cani e gatti devi fare uno sforzo ulteriore perché non ti basta la decodifica letterale del messaggio ma devi impegnarti di più la verità è che la maggior parte delle persone non ha consapevolezza del fatto che comunicare è una fatica e quindi quella fatica ci sta molti si fermano al sistema 1 e quindi alla lettura superficiale di ciò che hanno davanti e quindi si perdono l'ironia si perdono la metafora si perdono gli usi traslati gli usi figurati e così via siccome quando tu scrivi online non hai controllo sul tuo pubblico un consiglio che mi dava sempre sempre De Mauro già nominato era scrivi per il più sfigato dei tuoi interlocutori cioè scrivi pensando a quello che c'ha voglia di capire fraintenderà tutto magari ce l'ha pure con te perché gli stai pure sulle balle ecco se tu riesci a farti capire da quella persona lì tutti gli altri ti capiranno io immagino che qualcuno possa commentare vabbè allora banalizziamo tutto no non è una questione di banalizzare è la questione di fare uno sforzo di chiarezza ho finito il sermone scusami no mi piaceva stavo pensando volevo dire concordo poi ho pensato a come ho cambiato il mio atteggiamento negli ultimi anni che anch'io sono partito sempre così divulgando tecnologia e cose e partivo sempre esattamente come dicevi tu e poi negli ultimi anni mi sono talmente stufato che l'unica cosa che penso è io faccio questo video se lo capisci bene se no vai a fare in culo questo è il mio approccio ma sì però è una cosa è una cosa che dipende dalla tua competenza dal fatto che hai una base di seguitori affezionati follower seguitori da anche delle tue competenze ed è giusto cioè bisogna continuamente pattugliare il limite fra appunto un'eccessiva semplificazione è un po' come non cedere alla dittatura dell'algoritmo che ti dicevo prima è giusto andare incontro all'algoritmo è giusto andare incontro alle persone con meno strumenti comunicativi però non appiattirsi su di loro cioè casomai fare uno sforzo per arrivare anche a queste persone ma per tirarle su capito? e quindi cioè un po' di sforzo lo devi fare anche tu una delle robe più importanti credo delle teorie della comunicazione è ricordare che anche l'ascoltatore o il lettore non è passivo cioè il ditino da quel posto te lo devi levare anche tu che ascolti e che leggi lo sforzo si fa da tutte e due le parti sia da chi emette e sia da chi riceve c'è una cosa che si chiama principio di cooperazione che è stato definito da Herbert Grice negli anni 70 che dice appunto una comunicazione che funziona implica che tutti cooperano per farla funzionare quindi se dall'altra parte c'è lo hater di Monti che proprio non lo può vederne anche dipinto cioè è uno sforzo sprecato cercare di arrivare a lui perché non vorrà mai capire ecco per me in questi anni la difficoltà principale quando facevo più divulgazione sui temi delle opportunità del digitale che ripeto adesso ho smesso in questi anni nel senso faccio le cose che mi piacciono a me stop insomma non voglio convincere nessuno di niente però la fatica ad esempio in televisione o in radio con tempistiche molto più veloci come sai benissimo dove magari in radio c'hai nove secondi per dire una frase che deve essere interessante ma avere un fatto ma dare anche un po' di simpatia e dici ma come cazzo faccio i nove secondi è sempre stata trovare il giusto bilanciamento tra dire una cosa incomprensibile perché sto parlando vado nel dettaglio e allora mi capiscono solo i detti lavori e all'estremo opposto invece dire una roba banale così ovvia semplice che poi chi ci capisce dice ma questo qua di cosa sta parlando e allora trovare quel punto lì di bilanciamento è una fatica notevolissima ecco è una fatica ed è però connaturata la comunicazione cioè se noi abbiamo ben chiaro la fatica che facciamo per arrivare a parlare e a scrivere singolarmente la fatica che abbiamo fatto come genere umano per arrivare a parlare e scrivere il fatto che continuiamo a incontrarci con persone diverse cioè la diversità oggi è un'esperienza di tutti i giorni tu tutti i giorni incontri molte più persone diverse di quanto non succedeva prima quando potevi nascere crescere e morire nello stesso villaggetto ecco tutto questo vuol dire che la comunicazione si è complessificata nel corso del tempo tantissimo la comunicazione è fatica io cerco di far passare ultimamente questo concetto la normalità è che non funzioni cioè che il messaggio non arrivi che ci siano dei fraintendimenti che si litighi se vuoi farlo funzionare devi fare appunto un mazzo tanto la comunicazione che funziona richiede una grande fatica e questa fatica bisogna essere consapevoli cioè non si può dire secondo me bisogna anche smettere di pensare alla crisi di comunicazione come all'evento eccezionale cioè l'evento eccezionale è quando tutto va in porto e questo secondo me questo rovesciamento di paradigma aiuta anche a rendersi conto quanto sia faticoso comunicare cioè che devi veramente metterci dell'impegno complessificata mi piace io poi adoro le parole non so bergonzoni ecco me lo ascolto ogni tanto così mi piace mi piace giocare sulle parole stranizzarle non lo so ecco quindi uno come bergonzoni mi piace però complessificata ci farò un video ti ruberò complessificata vedrai complessificata senti ho due argomenti che vedo esplodere in chat secondo me lo sono dimenticato ma il primo congiuntivi congiuntivi io non azzecco più un congiuntivo da anni già prima facevo fatica da quando sono qua in Inghilterra congiuntivi proprio li perdo completamente però l'unica cosa che mi allieta è vedere che non sono l'unico anche in Italia insomma quando sento parlare non è facile azzeccare tutti i congiuntivi complessivamente quello è lo stato di salute del congiuntivo dottoressa Gheno ma diciamo che ancora se la cava il congiuntivo è diventato uno dei supposti segnali di ignoranza tanto è vero che c'è questo meme che sicuramente hai incontrato nel corso della tua vita anticoncezionali pillola preservativo se io avrei ok il bello è che ci sono contesti in cui se io avrei è corretto per esempio nelle interrogative indirette mi chiedo se avrei la forza di arrivare in fondo a questo compito ci sono i gran marnazi che arrivano a frotte no se io avessi vuol dire una cosa diversa quindi finché c'è un meme del genere che gira vuol dire che in realtà sul congiuntivo c'è un grosso stigma sociale per cui se sbagli il congiuntivo sei un poraccio sei un buzzurro di conseguenza non possiamo alzare le mani a renderci e dire il congiuntivo non lo usa più nessuno ci sono molti contesti in cui si può scegliere fra il congiuntivo o l'indicativo e invece i gran marnazi insistono che lì ci va per forza il congiuntivo e invece non è vero cioè io penso che sei cretino è diverso da dire io penso che tu sia cretino cioè il livello di certezza è maggiore e quindi è inutile correggere io penso che sei cretino perché ci sta non è come io speriamo che me la cavo cioè è una frase dotata di un suo senso ovviamente il congiuntivo è il regno delle sfumature e quindi siccome a scuola noi impariamo una grammatica un po' cubettosa cioè un po' a cubetti il congiuntivo ogni tanto fa fatica a venire applicato per bene perché in moltissimi casi si può scegliere c'è un'altra cosa da dire allora lo stigma sul congiuntivo l'altra cosa che volevo dire non me la ricordo più anche io mi sono dimenticato il secondo argomento vero ma me non mi ricordo vabbè no no ma ecco siamo nell'età delle certezze c'è anche una questione semantica dietro cioè di significato profondo ci stanno vendendo questo presente come il tempo dell'azione della mancanza di dubbi della certezza no cioè sono figo perché non ho dubbi infatti sto scrivendo un libro sul dubbio non a caso sul fatto che invece ci serva il dubbio perché senza dubbio non impari cioè se pensi di sapere già tutto non impari più nulla comunque è chiaro che il congiuntivo e il condizionale stanno un po' in panchina perché sono i tempi cioè sono i modi del dubitare dell'incertezza dell'autodubitare cioè magari dai un'opinione non in maniera apodittica ma in maniera che se ne può discutere quindi è chiaro che se noi andiamo nella direzione di un presente certo il congiuntivo non serve e invece ci serve cioè è una sfumatura di significato che l'italiano ha perché tante lingue non ce l'hanno e quindi ce lo dovremmo tenere insomma è importante salviamo il congiuntivo chiaro hashtag viva il congiuntivo senza però diventare quelli che vanno in giro a correggere i congiuntivi posso dirlo a cazzo di cane è Boris è citazione da Boris quindi si può dire allora l'altro argomento no ce l'ho è questo femminile io sto lanciando in realtà ho lanciato un progetto che praticamente è ispirato a Masterclass è presente Masterclass è il sito con tutti i grandi personaggi che sono argomenti e io sto facendo dettaglio ci ho cinquantina di personaggi già confermati che insegnano argomenti vari insomma dal tennis ho capito Monti che si chiama competenze e fa quella roba lì la cosa che veramente mi colpisce diciamo sono due una è diciamo una presa di presa d'atto del fatto che in Italia le donne raramente sono nei posti di potere e questo diciamo è un dato di fatto quindi se io dico prendiamo l'amministratore delegato di una multinazionale di un'azienda facciamo il calcolo vediamo quanti sono uomini e quanti sono donne inevitabilmente la lista che viene fuori sono 90% uomini 10% quindi questo è un dato incredibile ecco che quando fai un progetto come quello che devo fare io dove dici io voglio i top di tutti i settori in giusto bilanciamento uomini e donne in bocca al lupo cioè è una roba mission impossible ecco a meno di scegliere persone che magari sono donne che sono hanno lo stesso livello di competenza di quello lì però sono molto meno note perché hanno avuto meno visibilità sono meno conosce cioè è un diavolo il casino l'altro problema è è sempre la spiegazione che tenga in considerazione uomini e donne che in Italia non so perché non viene considerato viene poco considerato magari adesso è più considerata mentre qua in UK se io parlo con mia moglie e cioè mi guarda come se fossi uno fuori di testa no? se vede un sito e dice ci sono solo uomini ma perché ci sono solo uomini o se scriviamo impariamo dai migliori subito il mio problema è ma perché abbiamo scritto impariamo dai migliori o le migliori non ci sono capito? e quindi ho ho questo problema oggettivo di trasferire una una parità l'ho fatta a lunga però era una parità linguistica quando spesso socialmente non c'è quella parità perché non siamo ancora lì nei risultati e quindi è un casino insomma sono in grande difficoltà vera aiutami tu è un casino effettivamente l'hai detto è un casino io ho scritto un intero libro su questo probabilmente lo sai si chiama femminili singolari il femminismo è nelle parole quindi insomma credo che il sottotitolo dica anche l'approccio abbiamo un problema socio linguistico culturale allora la lingua rispecchia tendenzialmente la cultura e la società in cui vive di cui si nutre e quindi la lingua in questo momento da una parte continua a mostrare questa come si può dire questa abbondanza maschile in tutti i contesti rispetto alla rappresentanza e rappresentatività femminile le cose stanno cambiando più o meno direi calcola che siamo un cinque anni indietro rispetto ai paesi anglofoni proprio come issues come questioni le cose stanno cambiando perché perché stanno arrivando donne in ruoli apicali sempre di più le donne stanno conquistando anche mestieri arti competenze che prima erano quasi esclusivamente appannaggio maschile migliormente ingegneria le stem in generale e quindi questo sta portando anche a una maggiore diffusione dei cosiddetti femminili professionali e quindi se una volta era veramente raro oggi puoi incontrare l'ingegnera l'avvocata la matematica non la materia ma la persona e così via allora se io guardo tutta la storia dell'italiano e anche del latino prima ti posso garantire che i nomi di agente i cosiddetti nomina agentis al femminile sono sempre esistiti sono stati usati tutte le volte che in qualche posizione c'era una donna e questo cioè se uno guarda al passato faccio solo un caso minister e ministra c'erano già in latino arbiter e arbitra c'erano già in latino gubernator e gubernatrix idem non c'è bisogno di tradurre perché è chiaro andiamo avanti troviamo Eleonora d'Arborea giudicessa o giudichessa di un giudicato in Sardegna siamo nel medioevo tardo medioevo poi abbiamo Platilla Bricci l'architettrice su cui Melania Mazzucco ha scritto un libro architettrice è il femminile di architettore che è la forma storica di architetto perché tutta stamenata linguistica perché usare i femminili oggi non è una novità linguistica è una novità socioculturale nel senso che ci sono donne che fanno lavori che prima non facevano e di conseguenza quelle forme femminili è come se esistessero pur non essendo usate hai familiarità con la differenza fra esistere in potenza e esistere in atto dalla filosofia ecco fai conto ingegnera esisteva in potenza ha iniziato a esistere in atto nel momento in cui sono arrivate le ingegnere però siccome quando tu ti definisci ingegnera gestrice di un profilo twitter eccetera è come se tu rivendicassi il tuo essere donna alla questione linguistica si sovrappone a una questione culturale l'Italia è un paese di tradizione patriarcale il patriarcato non è maschi contro femmine è una tradizione un modo di vedere la società in cui gli uomini fanno certe cose le donne ne fanno altre e si va avanti nella tradizione cioè la società patriarcale è quella che magari a me impedisce di arrivare in certi ruoli famoso soffitto di cristallo ma a te impedisce di metterti in libertà lo smalto rosso perché se ti esci con lo smalto rosso a Brighton no secondo me non ti guardano ma se esci con lo smalto rosso a Milano o magari col Kilt ti guardano come se fossi fuori di testa quindi non è il sistema che io cerco in qualche modo di contribuire a combattere poi tu hai detto una seconda cosa se vado lunga fammi dei segni perché questa è la mia roba che mi appassiona no l'altra cosa che hai nominato è la la come si la sottorappresentazione femminile quando io mi rivolgo a una moltitudine mista i migliori e le migliori no e oggi non c'è in realtà una soluzione definitiva nel senso che sai si sta lavorando su creare delle forme terze io ho promulgato l'uso dello schwa no che è questa vocale indistinta buonasera a tutti questa ok quindi scegliamo solo e migliore con quella piccola e capovolta lo so che è strano ma fa ridere ma infatti è una roba che io ho detto un po' così direi che o sdoppi tutte le volte cioè scegliamo i migliori e le migliori oppure trovi una circolocuzione dovendo scrivere lo puoi fare scegliamo le persone migliori per esempio o le eccellenze italiane alla fine abbiamo scelto cerchi delle parole che semanticamente siano per quanto possibile neutre perché in italiano il neutro non esiste poi tu hai un altro scontro culturale che è dall'altra parte c'è l'inglese che essendo invece una lingua con il cosiddetto natural gender cioè non ha il genere sulle parole ma ce l'ha solo sui pronomi l'inglese sta andando verso l'uso di formule neutre per tutti e quindi le actresses preferiscono essere chiamate actor invece di spokesman e spokeswoman dici spokesperson e poi c'è il dei no? c'è il famoso pronome dei singolare per le persone che non si dichiarano né maschio né femmina quindi andiamo in direzioni opposte ma la fine è la stessa il fine scusate è lo stesso un business che dovremmo lanciare insieme vera è un servizio magari c'è già dove lo chiamiamo tipo diversity check punto it dove uno gira tutti i siti di tutte le aziende e lì sistema perché ma competenze per primo cioè io ti dico nonostante io abbia questo focus e preoccupazione e ugualmente se vado sul sito adesso è pieno di di errori da questo sì assolutamente nonostante questo quindi immaginati chi neanche si pone il problema non lo vede proprio il problema e quindi un servizio così 9,99 al mese e ti correggiamo ma pensa quanti cioè tutta tutta Italia prendiamo questo guarda adesso ci ragiono lo metto lo metto su un bel piccettino e te lo sottopongo ok grande senti Vera è stato veramente un piacere chiacchierare con te e ci teniamo in contatto in realtà non ti ho chiesto nulla volevo sapere della tua vita cosa hai combinato come sei diventata Vera Gheno peraltro c'è un nome incredibile io vorrei chiamarmi Vero Gheno Monti Gheno non so è un nome pazzesco da supereroe da supereroina infatti di solito mi arrivano le lettere o Vera Gheno o Vena o Vena Gheno la signora Vena che anche questo insomma un po' dark un po' crepuscolare in linea con la tua webcam esattamente sì sì comunque no io è tutta una serie di casi poi casomai facciamo una seconda live e lo racconto ma ma non c'è nulla di non ci ho pensato troppo a diventare Vera Gheno è successo per una serie di coincidenze fortuite diciamo così ma tu scusami dopo che hai studiato cosa hai fatto dopo lettere cosa hai fatto schifo fondamentalmente no allora io prima di tutto ringrazio il cielo che prima mi sono iscritta in ingegneria quindi ho studiato due anni in ingegneria facendo schifo ma un nerbo in postem me l'hanno lasciato poi ho fatto lettere poi ho fatto un dottorato poi mi sono infognata nella più lunga serie di assegni di ricerca dell'universo mondo ho fatto 12 anni di assegni di ricerca lavorando alla Crusca per cui io dal 2000 al 2019 ho collaborato con l'Accademia della Crusca facendo anche altre cose però il grosso era quello e poi mi sono stancata sono venuta via e adesso collaboro con Zanichelli quindi metto le mani nello Zingarelli tanto per essere precisi e poi faccio contenuti e così per loro però diciamo che io ho sempre avuto un problema ma con l'autorità e quindi preferisco essere Ronin eh Rogue più o meno senza padroni e questo l'ho capito abbastanza presto nella mia vita con grande sconcerto dei miei genitori che ovviamente volevano la figlia sistemata no? invece tutte le volte dicevano ah c'hai già un'età la pensione ragazzi lavorerò fino al giorno in cui crepo probabilmente però va bene così cioè sono sono felice di quello che faccio ma e quando è che hai capito che comunque cominciavi ad avere una visibilità diversa rispetto a un comune sociolinguista c'è stato un momento un'attività o un'occasione particolare che ha cambiato un po' il corso della tua eh sì è stato a Petaloso sì perché diciamo che fino a quel momento il lavoro di gestrice Twitter della Crusca era stato un po' dietro le quinte lì per tutta una serie di fattori concomitanti mi sono ritrovata molto più in vista di prima e in realtà credo che sia stato proprio la scintilla che poi ha fatto accadere tutto poco dopo o proprio in quei giorni mi ha contattato una mia ex studentessa che lavorava in una casa editrice fiorentina dicendomi che secondo lei sarebbe stato carino pubblicare il mio corso io tengo da quasi vent'anni un laboratorio di italiano scritto all'Università di Firenze da contrattista eh non scherziamo e in realtà quel librino ha cambiato le magnifiche sorti progressive della mia vita si chiama Guida pratica l'italiano scritto senza diventare gran marnazi ed è un librino che in teoria doveva vendere boh le classiche 200-300 copie credo che vada verso le 10.000 e quindi è stato un caso editoriale e poi come dire quello mi ha un po' messo sotto i riflettori di altre case editrici per cui ora quanto ho 8 libri all'attivo più o meno con altre tante case editrici essendo io poliamorosa dal punto di vista editoriale perché non mi sono mai legata a nessuno ma a tutti ho sempre detto voglio mantenere la libertà editorialmente parlando di andare con chi mi pare solo da un punto di vista editoriale forte io devo dire ho un rapporto molto problematico dal punto di vista editoriale a parte che non so minimamente scrivere però diciamo se devo condensare dentro un libro delle cose dette nei miei video o insomma una roba del genere quindi esce un libro come formato ma non sono un autore di un libro però faccio fatica ecco un editore tradizionale non riesco proprio a capire come possiamo ad oggi convivere e quindi ho fatto varie esperienze di autopubblicazione cartacea stampando non stampando digitale però ad oggi non c'è una soluzione ideale ecco mancano ancora un po' di tasselli tecnologici per essere indipendenti davvero però insomma arriveranno a breve arriveranno così uno io invece ho grandissima mi piace molto scrivere tanto proprio per cui non mi pesa la cosa che mi ha stupefatto all'inizio di questa fase della mia vita è stata che alle persone interessasse quello che potevo avere da scrivere quindi rimango sempre stupita poi delle persone che mi scrivono e mi dicono ah grazie buonissimo libro io non vedo l'hai letto incredibile ho ancora quest'impostazione un po' naif però è stello vedi io invece mi vergogno così tanto dei miei libri che quando uno dice ho letto ti prego dimmi che non l'hai letto per davvero perché mi vergogno va bene è stato veramente un piacere ho imparato un sacco di cose ad esempio anche che si dice stupefatto e non stupefacuto no scherzo questa cosa no ci sono abbastanza anni in Inghilterra per farti dimenticare questo stupefatto ancora ve lo ricordo e ci teniamo in contatto allora dai magari faremo una puntata bis di Vera Gheno dietro le quinte premium per gli abbonati premium ok se no aspetta prima di lasciarvi non hai viste clicca qui esatto clicca qua ma è un libro da leggere invece per queste vacanze natalizie qualcosa che assolutamente non si possono leggere libro e o libro piuttosto che film o serie televisiva cavolo non mio ok cioè no non tuo tuo non vale tu abbiamo presentato tutti i tuoi libri allora non mio mi devo spostare lo prendo ecco vai secondo me questo bernardine varisto girl woman other appena è uscito in italiano si chiama ragazza donna altro per edizioni sur ed è uno dei migliori libri che io abbia letto quest'anno veramente molto molto bello parla di londra quindi insomma vabbè non l'ho fatto apposta e invece serie tv io sono una grandissimissima fan di the expense che è una serie di fantascienza che è su amazon prime video e the expense the expense l'espansione l'espansione e allora dietro ci sono i romanzi di tale james cory che è il nome d'arte di due persone che hanno lavorato anche alla sceneggiatura di trono di spade quindi molto molto bello ecco i miei consigli forte vado vado a vedermeli allora pera grazie mille e auguri allora buon natale buon anno e buon tutto insomma anche a te a tutti tutti e tut anzi tut quel che ci hanno ascoltato quindi ambosessi va bene ciao grazie